L'innovazione tecnologica come strumento per ottimizzare l'informazione alle aziende agricole e alle strutture ricettive e per ampliare i canali della formazione degli operatori del settore. Questo in sintesi quanto contenuto nella programma di sviluppo rurale della Calabria 2007-2013 a 6-4 approccio leader presentato presso il Galla Pollino di Castrovilleri. Questo è un progetto che un po' rafforza e impreziosisce la nostra attività sul piano dell'utilizzazione delle nuove tecnologie perché è un progetto che utilizzerà una piattaforma utilizzando la cosiddetta learning, cioè la formazione, l'informazione a distanza utilizzando i mezzi che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Con la piattaforma CLESS di Firenze e insieme a loro abbiamo costruito questa opportunità intanto per le nostre aziende agricole e aziende agrituristiche perché queste aziende ogni giorno devono fare i conti con normative nuove in ogni campo della vita pubblica e sociale e spesso si trovano anche impreparate o devono ricorrere quando il danno è stato prodotto e causato. Il tema è esattamente questo, la qualità delle aziende non è qualcosa che si improvvisa la qualità delle aziende è basata su un rispetto di norme, di regole, di best practice che vanno a qualificarla nella misura in cui l'azienda si qualifica acquisisce quella qualità di presentazione sul mercato. Ovviamente quando noi parliamo di azienda, in questo caso specifico di questo progetto parliamo soprattutto delle persone, per cui le persone come elemento fondamentale per garantire la compliance e cosa devono fare? Devono anzitutto essere opportunamente formati. Bene, abbiamo allora pensato di andare a identificare alcuni dei temi della compliance. sappiamo tutti, la compliance è un insieme di tanti temi, non era possibile trattarli tutti. Abbiamo pensato che questo poteva essere un punto di partenza e allora abbiamo pensato proprio rivolta ai destinatari che dicevano precedentemente a tre aspetti in modo particolare. Ai temi della sicurezza delle aziende, ai temi di come devono approcciarsi a questo nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti in zone rurali. Tenuto conto che alcuni comuni adesso hanno avviato in molte realtà anche la raccolta differenziata in molte zone rurali. Terzo, anche una valorizzazione a scopo turistico perché sono aziende che ormai devono stare nell'offerta turistica del nostro territorio.